buongiorno serenella salomoni buongiorno buongiorno serenella buongiorno serenellasalomoni.it lo dico perché ci sono molti che ti seguono psicoterapeuta sessuologo esperti di terapia della coppia questa coppia che a un certo punto decida di non fare più sesso che razza di coppia è soprattutto se magari ancora giovane che succede ma hai ragione capita sai che a un certo punto ci sia questa specie di rinuncia al sesso logicamente ce lo dobbiamo chiedere perché quando succedono queste cose non è detto che poi la coppia possa procedere bene perché poi ci sono due cose diverse come hai detto tu ci potrebbero essere i matrimoni bianchi dove c'è la difficoltà nella penetrazione a me sono capitati poi dopo è molto carino perché quando hanno risolto il problema mi mando anche la foto del bambino che lascia perché di solito questi matrimoni vengono da me quando decidono di fare dei figli perché naturalmente hanno un sesso dove c'è tutto ma non la penetrazione quindi se vuoi avere un bambino lo facciamo sempre nella stessa maniera bisogna arrivare a quello però devo dire che sono problemi che poi vengono affrontati anche se risolvono quando invece c'è il fatto della rinuncia al sesso perché uno dei due non lo vuole fare più ma lì è proprio tragico perché l'altro si sente molto frustrato quindi o c'è poi dopo un tradimento ma sai qualcuno anche se è un uomo che sente questa cosa non solo non trattisce ma magari si deprime quindi tutto il rapporto poi comincia ad andare a rotoli e quindi si arriva alla natura della relazione quindi il piacere del corpo la complicità la voglia di stare insieme è importante perché il senso non è ricordato di solo penetrazione sesso è anche tutto il resto che si diventa addirittura anche più importante cominciando dal bacio quindi se non volete fare un sesso completo si può fare un sesso a metà e che può andare anche bene lo stesso per la coppia bene allora prendiamo appunti e non pensiamo di essere immuni a questa cosa perché può capitare a tutti grazie Serenella buon weekend a presto a voi buon weekend baci baci